Un pareggio per il quale si può parlare questo di Avellino Torino, di un altro successo casalingo dell'Avellino nei confronti di un Torino che dopo il vantaggio conseguito alla mezz'ora di gioco sembrava avviato ad una vittoria ancora più consistente nel punteggio, ma gli Irpini con puntiglio e grande impegno hanno saputo recuperare il risultato e poi sono riusciti a salvarlo grazie al bravo Piotti che ha fermato Pulici dal dischetto, come vi mostreremo con le immagini montate da Pino Sumpa e Gianni Naldi. Il gol del Torino scaturisce alla mezz'ora di gioco da un'azione ben concertata, ma anche per una disattenzione della difesa dei padroni di casa che non ha ben contrastato un greco lasciato nell'occasione troppo libero. Patrizio Sala intercetta un lancio difettoso di Boscolo, allunga a Graziani inutilmente contrastato da Bisomma, la sfera viene servita a greco tutto solo che insacca di precisione nell'angolino alto alla sinistra di Piotti. L'Avellino a questo punto continua la sua partita attenta nelle marcature, nel chiudere i corridoi, nel vanificare le pur ordinate iniziative degli ospiti. Alla metà circa del secondo tempo i lupi si concentrano, dando alle manovre maggiore concretezza in penetrazione. Al sessantacinquesimo il loro impegno viene premiato. Boscolo alla rimessa per De Ponti riesce ad allontanare Salvadori. Il pericolo per i Granata sembra scongiurato ma l'azione prosegue, recupera una prima volta Mario Piga. Il suo cross viene respinto, recupera ancora De Ponti che mette al centro e Massa che ha sostituito Reali al volo ed in bravura batte Terraneo. Quattro minuti dopo si profila la possibilità di un risultato clamoroso anche col Torino come era avvenuto col Milan per un colpo di testa di De Ponti, neutralizzato dall'intervento del numero uno del Torino. Al settantacinquesimo l'episodio che stava per mandare a monte la fatica degli Irpini quando Lombardi atterra Claudio Sala in area di rigore, Massa non ha dubbi e concede la massima punizione. Pulici contro Piotti. Il primo forse sbaglia ma il secondo certamente vince respingendo, recuperando e conservando il risultato utile anche contro il Torino.